Un vero e proprio asse tra Italia ed Albania, ma anche tra Andria e Cerignola, per due organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Fiumi di droga provenienti non solo dal paese delle Aquile, ma anche da Germania e d'Oranda. Sono 22 gli arresti effettuati stamane dagli uomini della Polizia di Stato, che ha sgominato le due organizzazioni criminali dopo un'indagine durata diversi anni al lavoro, la DDA di Bari, in collaborazione con l'Interpol della Polizia di Stato albanese. Le indagini condotte dalla sezione antidroga della squadra mobile con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani sono partite già nel gennaio del 2015, a seguito dell'omicidio di Francesco Ferrante, detto geppetto, avvenuto nella città tranese nei pressi del circolo privato che gestiva con una fucilata alla testa. Le complesse indagini hanno appurato come quell'omicidio fosse immaturato proprio nel mondo dello stupefacente. E come un puzzle, tassello dopo tassello, sono emerse due organizzazioni criminali distinte, ma tra loro collegate nell'area nord di Bari. Una compresa tra Cerignole e Foggia ed una tra Andre Barletta. Entrambe, seppur non coinvolte nel crumento fatto di sangue tranese, erano dedicate al traffico internazionale di droga. A gestire l'importazione dello stupefacente era un cittadino albanese che attraverso propri connazionali domiciliati nel nord Europa forniva alle organizzazioni criminali operanti sul territorio italiano cocaina ed eroina di ottima qualità, oltre ad ingenti quantitativi di marijuana e hashish, tessendo poi una rete che si sviluppava anche in Olanda, Germania ed Inghilterra. La droga arrivava in Italia mediante corrieri che utilizzavano anche doppi fondi installati sulle autovetture. La città di Foggia era una vera e propria centrale operativa. Nel capoluogo Dauno, infatti, giungevano ingenti quantitativi di stupefacenti che poi venivano smistati in altre località come Cerignola, San Salvo, Pescara e Barletta. Da qui si provvedeva a cedere le partite di droga ai vari acquirenti provenienti da diverse regioni d'Italia. Nel corso delle indagini sono stati registrati anche alcuni contrasti con altre organizzazioni criminali operanti nel Foggiano, ma prontamente bloccate sul nascere attraverso mirate attività di polizia giudiziaria. Numerosissimi i riscontri investigativi, 20 arresti in flagranza di reato e di sequestro di oltre 440 chili di stupefacente tra cocaina e eroina Ashish e marijuana. A dimostrazione della pericolosità dell'organizzazione criminale, le armi pronte all'uso di cui disponevano come una carabina, un fucile ed una pistola semiautomatica, ma anche ingenti somme di denaro come i 30.000 euro sequestrati nella giornata odierna.